Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, o benvenuti per chi non è ancora iscritto. Io sono Claudia e nel video di oggi volevo mostrarvi alcune idee di ricette per preparare dei pranzi o delle cene per i vostri bimbi. Secondo me sono delle ricette adatte per bambini intorno a un anno, comunque 12-14 mesi. Guardatevi che ognuna dovrà sempre seguire i consigli del proprio pediatra, quindi queste sono soltanto delle idee, degli spunti, delle ricettine per preparare dei pasti per i vostri bimbi. Sono tutte ricette molto semplici, veloci, che ognuna di voi potrà preparare tranquillamente. Se non le avete già viste vi lascio giù nell'info box i link dei miei video per preparare gli omogenizzati fatti in casa e altre ricette per le pappe per ogni fascia di età. Prima di lasciarvi il video vi ricordo come sempre se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale, è gratuito, a voi non cambia assolutamente niente, è semplicemente un modo per sostenere il mio canale e permettermi di registrare sempre più video. Se vi piace questa tipologia di video vi ricordo come sempre di lasciare un like a questo video e se volete commentate qua sotto per farmi sapere quali sono le vostre ricette preferite e se avete qualche altro suggerimento di ricetta da darmi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.